I carabinieri hanno tratto in arresto un 45enne domiciliato a Battipaglia in esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dall'ufficio del GIP del Tribunale di Roma in quanto ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari, lesioni personali e violenza sessuale continuata. Il provvedimento scaturisce dai riscontri investigativi successivi alla denuncia sporta a luglio dall'ex compagna, una 29enne residente a Roma, la quale ha riferito di continue umiliazioni e percosse subite nel corso della loro relazione, cui si aggiungevano rapporti sessuali consumati con la forza. Nello specifico, l'uomo a partire dal mese di novembre del 2017 aveva costretto la donna ad un regime di vita caratterizzato da continua sofferenza, esponendola alla sua aggressività derivante dall'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti e colpendola in diversi casi con schiaffi, pugni e calci che le avevano cagionato lesioni giudicate guaribili entro i dieci giorni. Il rapporto sessuale consumato contro la volontà della vittima rappresentava il suo modo per scusarsi del comportamento violento assunto. Espletate le formalità di rito, il 45enne è stato rinchiuso nel carcere di forni.